definiti ambiti di azione soggetti destinatari del servizio taxi sociale all'interno dell'intervento Vallo di Diano 8.3 un servizio che sarà utile a garantire gli spostamenti a chi non ha i mezzi e un'adeguata assistenza per potersi muovere e svolgere quelle attività quotidiane che siano di carattere burocratico sociale culturale oppure per la tutela della propria salute nel corso dell'ultima conferenza dei sindaci del Vallo di Diano svoltasi presso la sede della comunità montana Vallo di Diano è stato illustrato nel dettaglio il progetto del taxi sociale definendo gli ambiti di azione i soggetti destinatari dalla relazione dell'assessore della comunità montana Antonio Pagliarulo che ha curato l'iniziativa è stato inoltre evidenziato come il gruppo di soggetti al momento identificato è comunque suscettibile di modifiche e di ampliamento per rendere efficace ed efficiente il servizio è stata definita la collaborazione con il consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro grazie al quale è stata definita un'iniziale platea di possibili utenti del servizio che affidato ad una ditta esecutrice delle prestazioni attiverà a breve il numero utile per richiedere il servizio di taxi sociale i soggetti a cui il servizio sarà rivolto al momento sono stati individuati in soggetti soli come anziani bisognosi di particolari attenzioni e cure soggetti definiti fragili dal punto di vista socio sanitario che necessitano di spostamenti per controlli sanitari cure mediche specifiche donne vittime di violenza che necessitano di un servizio di trasporto per le primarie esigenze minori e accompagnatori seguiti dai servizi sociali soggetti che vivono in condizioni di marginalità sociale povertà economica ed educativa soggetti individuati dai servizi sociali che operano nei 14 comuni del vallo di diano si potrà usufruire del servizio del taxi sociale esclusivamente per l'espletamento di commissioni legate ad attività di vita quotidiana quali ad esempio l'accesso ai servizi postali e bancari uffici pubblici in generale accesso ai servizi sociali e sanitari ossia per recarsi presso i centri diagnostici e di cura per le visite mediche necessarie è stato inoltre definito anche un ampliamento futuro delle prestazioni con l'attività di voucher a chiamata destinato ai sindaci che potranno usarlo per particolari situazioni o per soggetti non inseriti nella banca dati ai sindaci tali voucher saranno assegnati il numero proporzionale alla popolazione residente inoltre sarà attivato il servizio dedicato agli studenti impegnati nelle attività di alternanza scuola lavoro a breve l'assessore Antonio Pagliarulo incontrerà la ditta esecutrice per definire l'inizio ufficiale del servizio